Musica Dopo la commemorazione della figura di Pasquale Mangiapia, ex consigliere comunale nonché assessore alla nettezza urbana recentemente scomparso, è cominciata la seduta del Consiglio Comunale di Via Verdi. Oggetto della discussione è la proposta per l'alienazione delle auto blu in dotazione agli assessori del consigliere Vincenzo Moretto, capogruppo del PDL, e quella per la destinazione dei locali dell'ex Tiberio Palace Hotel in uffici e servizi ed altre attività di pubblico interesse proposta dal consigliere Santoro. Nei giorni scorsi Moretto aveva proposto che le auto blu fossero vendute e in alternativa assessori e dirigenti avrebbero usufruito esclusivamente per motivi istituzionali dei taxi. Proposta decaduta subito in Consiglio Comunale dopo l'osservazione del vice sindaco Tommaso Sodano, che ha fatto notare che il parco auto del comune è a noleggio, pertanto le auto blu non possono essere messe in vendita in quanto lente di Palazzo San Giacomo a un contratto di leasing che non si può sciogliere. La delibera è stata quindi respinta a maggioranza con l'astensione del presidente Pasquino e dei consiglieri Antonio Borriello e Crocetta. Tornano alla mente le promesse del sindaco De Magistris in campagna elettorale, quando giurava che la sua giunta avrebbe circolato rigorosamente in bicicletta elettrica. Alla luce dei fatti di oggi ci si chiede come sarebbe stato possibile ai posteri l'ardua sentenza. Questo è proprio nello spirito di diminuire i costi in un momento restrittivo dell'amministrazione ed è un comportamento che stanno avendo tutte le amministrazioni, sia regionali che comunali, nel resto del paese. Per quanto riguarda l'hotel Tiberio, invece, la delibera è stata approvata. La destinazione dell'hotel sarà per usi pubblici e quindi per sedi comunali. 11 i piani del Tiberio in cui, dunque, potranno trovare spazi molteplici uffici comunali oggi allocati in sedi per cui il comune di Napoli paga una locazione. Secondo l'assessore Tuccillo, in questo modo Palazzo San Giacomo risparmiera circa 14 milioni di euro. Secondo l'assessore Tuccillo, in questo modo Palazzo San Giacomo risparmiera circa 14 milioni di euro.